Sono orgoglioso di presentare a tutti uno degli strumenti più tecnologici che abbiamo a disposizione in medicina estetica. Presente nel mio studio, in pianta stabile, questo eccezionale laser frazionato non ablativo, uno strumento spettacolare che ha delle funzioni che possono dare dei risultati splendidi sotto il profilo dell'estetica in tanti campi diversi. Si tratta di uno strumento che ha la funzione di migliorare moltissimo la zona con rughe sottili, la zona in cui la pelle è poco tonica, un pochino più flaccida, quindi parliamo di aree molto particolari tipo il codice a barre, tipo le zampe di gallina, con una metodica totalmente diversa dalle classiche punturine che normalmente possiamo usare, che peraltro sono ottime come risultati, ma che non sempre risolvono tutti questi problemi. La ditta produttrice è l'Ellips, una splendida azienda danese che produce questo gioiellino. Si chiama laser frazionato 1550. Quello che è il suo funzionamento è una delle cose più semplici che possiamo avere in dermatologia. Noi passiamo questo strumento sulla pelle in modo totalmente indolore, con una delicata pressione che crea un surriscaldamento di certe zone specifiche della pelle, in grado di migliorare tantissimo lo spessore cutaneo e creare un aumento di collagene che possa andare a riparare tardite, lassità, rughette sottili, in un modo assolutamente poco invasivo. Il funzionamento è semplicissimo. Con questo manipolo si passano sulle zone interessate, come sto facendo qui, c'è una luce guida che passa in un modo, vedete, assolutamente il dolore. Solo un minimo pizzicotto, ma proprio una cosa quasi impercettibile. si ripassa due o tre volte sullo stesso punto, fino a ottenere il risultato che noi vogliamo. Grazie a tutti. Quelli che sono i protocolli di trattamento sono un ulteriore segnale della semplicità di questo strumento. Si fa una seduta, poi a distanza di un mese e mezzo più o meno si può fare una seconda seduta. Però non è necessario farne tantissime, perché con un paio di volte abbiamo già molti dei risultati che noi andiamo a volere. Quelli che sono gli obiettivi, oltre alle rughe come vi ho spiegato, sono anche il miglioramento per esempio delle cicatrici da acne, delle smagliature e su tutte le zone lasse che a volte possiamo purtroppo notare come l'interno delle braccia, l'interno delle cosce o la zona più difficile in assoluto da trattare che è il collo, queste sedute danno veramente un aumento di tonicità con risultati spettacolari. Questo tipo di strumentazione permette un'azione in tutti i mesi dell'anno, non è più necessario dover fare uno stop nei mesi estivi, proprio perché quello che noi chiamiamo in termini tecnico downtime, cioè il periodo di recupero dalla seduta con arrossamenti, croste, qua è praticamente irrisorio. Tempo due o tre giorni, un minimo di arrossamento, un pochino di gonfiore, ma è una cosa assolutamente ben tollerabile, quindi si può tornare al lavoro e alle proprie attività. In estate l'unica cosa che si consiglia è evitare esposizioni solari proprio nei 10-15 giorni precedenti e magari nei 10-15 giorni successivi. Quindi veramente uno strumento da cui sappiamo di poter ottenere quei risultati che non sempre è facile avere in estetica. Un nuovo passo avanti importantissimo dell'estrumentazione a disposizione qui nel mio studio di Aosta. Grazie.